musica 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 bene 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 sai qua belli pimpanti per passare questi 10 minuti un quarto d'ora a sfogarci su questo voltezzo sfogorante sono messo la spina stavolta meno male abbiamo anche la collezione di orbetello l'identi località della nostra penisola orbetello sul naviglio e orbetello sul mincio o orbetello non lo so orbetello lombardo che contiene cosa contiene orbetello? abbiamo anche l'inglese ti salutiamo perché tra di noi abbiamo un tuo omonimo saluta eric salutiamo eric ciao eric ciao raga bella pro bella fra e niente ragazzi oggi check si gusta è arrivato chi è arrivato? cyber fabio signor cyber fabio buonasera eh 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 poi ti rispondo al whatsapp se faccio tempo aprirlo Filippo Monaco dice chi qui da anni quindi vuol dire che ci segui da anni grande Filippo grazie 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 dunque lo sbustiamo in italiano perché in inglese sono finiti ce ne avete comparti tutti è una cosa incredibile grazie 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 però forse rientra no? sto cercando di recuperare qualche altro Elite Trainer Box di Voltaggio Sfolgorante Vivid Voltage o Vivi della vita loca e niente ragazzi siamo pronti? siamo ha 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 dobbiamo dirla questa qua perché per diciamo la nostra vogliata della sera signor Eric io ho prima detto Vivid Voltage o Vivi della vita loca signor Eric proponiamo giustamente la quinta artwork dell'Agostina con su Ricky Martin quindi il Ricky il Ricky mo poche mo esatto la facciamo pagare di meno per Ricky no com'è? si è appena connesso Mr. Ricky è Mr. Ricky ma non ci credo Ricky come stai? una comunicazione per Mr. Ricky che mi ha risposto alla storia del cioccolato al 99% buonissimo per te che fai tanto sport cioè che sei sempre su Gokkart il cioccolato fa molto bene vai sulla calzata dello sport c'è un articolo dedicato io da quando ho letto quell'articolo lì mangio un sacco di cioccolato e niente comunicazione di nego Mr. Ricky piccolo spazio vogliamo vedere però della Lind suggerisco il Lind che è molto buono chiaramente sopra il 70% fino a 90% si può arrivare che ancora che non è pastoso 99 o 100 è abbastanza mmm bene detto questo possiamo trovare dopo la degustazione possiamo anche sbustare bene a posto grazie ragazzi in questo momento benvenuti nella mia cucina non è vero? allora siamo pronti dai sbustiamo sbustiamo su te che c'è? che c'è? non è vero? che c'è? cyberfabio dice anche io faccio un sacco di sport sono informissima esattamente come tutti noi bravo Fabio poi torniamo anche alla haloha bene ragazzi sto piacere grazie ah no dovevo andare siamo all'inizio non alla fine dunque siamo pronti e allora pokemon spot e scudo un volutaggio sfoglurante set allenatori fuori classe ciaaa si sbusta andiamo attenzione c'è la segnoria da i giri instagram è lì così devi andare in piscina che devi buttar via ha 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 mi è diventata stasera così ragazzi abbiamo ehhh è così attenzione cosa contiene il nostro lì? box pardo o set allenatori fuori classe è più conosciuto in gergo come in ita trader box noi lo chiamiamo più facilmente così perché è nato inizialmente solo come prodotto inglesico per poi visto il successo è arrivato anche in versione italica e l'hanno chiamato set allenatori fuori classe io personalmente preferisco il nome inglesico mi sembra più accattivante infatti ho fatto anche le mie rimostrante dal pokemon in italia e mi ha risposto se vuoi è così mi piace ok va bene cosa contiene questo fantastico prodotto perché è veramente fantastico allora apriamolo a dentro la parte di imbottitura la confezione esterna la si può aprire e c'è dentro anche qua un bel disegno bella 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 art work un po' riferito alle art work delle bustine poi abbiamo 8 splendide bustine ovviamente dedicate alla serie in questo caso voltaggio sfogorante va che belle 8 belle bustine il regolamento del gioco di carte collezionabile di pokemon track dove puoi imparare a giocare i segnalini danno e veleno i dadini i dadini per giocare che da qualche vita questa parte da sanemon 12 se non ricordo male hanno si esatto gli hanno fatti coi numerini forse sword shield 1 sword shield 1 perché hanno fatto la noia hanno fatto l'elite di sword shield esatto forse sword shield con i numerini che abbiamo esultato finalmente dopo che dovevamo arrivare a 800 di vita per i pokemon esattamente prima c'erano quelli con i pallini come il dado quello più grande adesso ci sono quelli con i numeri molto più utili per giocare i divisori perché questa è una scatola voilà abbiamo anche le nostre scatole facciamole vedere mostriamole va che bella queste scatole qui non le preparo mai su lpp.com.it le trovate vabbè questa c'è dentro magic però ci puoi mettere quello che vuoi sei vista sei vista sei vista si qua ci sono dentro circa 3500 carte esattamente esattamente noi abbiamo qualche centinaio di scatole così e i divisori confermano comunque che i dadi con i numeri sono da Swords and Shield ok grazie mille per la precisazione si ricordava bene il signor Eric questa diventa una scatola Trax con i divisori quindi puoi usare o questa come scatola se non prendi quella gigante e hai i suoi divisori abbiamo poi le energie che non vi facciamo vedere poi scusate ho messo la mano davanti e le buste le sleeve in questo caso abbiamo ragazzi sono bellissime bellissime quelle con pica pica pikachu v che figliata che figliata bene 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 questo è tutto il contenuto saluto a chi si è connesso ora un saluto a chi si è connesso ora non ci dicono chi sono però dicono dall'Abruzzo dall'Abruzzo un saluto a tutto l'Abruzzo abbiamo ragazzi da da from Abruzzo c'è un ragazzo che dice ciao bestiaccia ciao ragazzi ciao bestiaccia bene 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 ragazzi Chuck si sbusta abbiamo visto tutto il contenuto adesso andiamo a sbustarcelo e voglio farvi vedere anche la nuova valigetta dell'Ultra Pro per i giocatori prima sbusta è arrivata anche questa adesso ci sono scritto me la faccio vedere in altra volta attenzione Chuck si sbusta ci sono seguiti dalla Spagna from Spain hola amigos arriva arriva andale e io c'ho lo spagnolo ho imparato con Spiri Gonzales mentre Mr. Ricky gli manchiamo dice che gli manchiamo puoi venire a trovarci comunque Poppy Metang Giraffe Air Giametallo Arrocuda Cavaloni Mio Diga Whopper il Pokémon del Burger King Charmander e le dittazione Shedinja carta rara Busto Tranchi Berry Funky come inizio molto molto tranqui molto tranqui perché Pikachu V Max arriverà più tardi attenzione più tardi arriva assolutamente un whatsapp prima e attenzione parte il super trick di boss abbiamo 8 booster 8 trick diversi più inquadrato in questo ma gli altri non me lo voglio perdere giotti attenzione la cosa ma tutti sul mio trick tutti vogliono sapere dove è la carta energia ormai bellezza in bicicletta sciacco eccola qui energia attaccato energia rend shift eccola qua la carta rara e niente 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 Widow e le altre carte con San Juan a chiudere la nostra bustina che c'è questo qua non aggiungo altro ok andiamo a vedere non chiedetemi di farlo Femfim Widow San The Lies attenzione è un Togeki è preso la carica esatto il pokemon rocchettaro Togeki adesso va e le altre carte attenzione anche un fantastico vapore bello 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 vapore sempre bello bene bene togekisvi attenzione poi c'è anche toge u2 non è male dai anche toge piace toge al latte e anche al cioccolato fondente dipende voi pensate che queste stupitate le raccontiamo solo in video ma qua è tutto il giorno tutto il giorno or the day together così no io voglio andare non so allora ragazzi nuovo trick cioè spero che qualcuno l'abbia filmato perché attenzione attenzione così è partito così forte a gg slush a gg slush a gg slush a gg slush ti viene un corso pover ti vende guarda a gg slush a gg slush max è uscito da questa bustina attenzione attenzione c'è anche in verità è stato il trick ma è l'amazing 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 come va distuto mi avete fatto prete un colpo attenzione stava sentita che sfrillava tutta in fondo tutta bella e niente però l'ho chiamata ah poi l'abbiamo chiamata ragazzi che bomba l'abbiamo ma che bomba è zammazing 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 e il pokemon zanza e infatti die e lolo lo confermano cosa ma che culo ma die e lolo lo confermano molto bene attenzione che bomba dicono comunque che il trick ha portato bene ripeto è vero non si può non so come ho fatto è un problema è un trickusegetta esatto trickusegetta tre ricky dice a mister ricky mi sono scoppiati in tifani grazie a ricky ricky ti passerà amazing zammazing zammazing è molto è ha la carta di vabbè quello no 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 non sa neanche cosa sta facendo ormai non lo sa neanche questa è questa donna è illusionismo non è illusionismo ragazzi facciamo così attenzione ti porto fuori dall'autogrill e ti lascio attenzione 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 allora è uscito questo è zip strike stavolta abbiamo fatto una roba non facciamo più così però è bella no 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 bene 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 ma c'è ancora l'entusiasmo della busta precedente perché una amazing una blue max in una busta sola è tanta roba sì sì tante tante roba tre bustine ancora vai ragazzi tutti insieme oltre che ternavo stiamo sbustando ci chiamano di quale regione siamo dalla lombardia siamo la regione al momento rossa poi magari diventeremo gialli azzurri fucsia verdi non si sa ancora ci faremo le battaglie tutti colorati per ora siamo rossi rossi per ora siamo rossi rossi usciranno le nuove dragon shield lombardia magari chi lo sai poco l'ora delle buste le sleeve attenzione ma allora il trick si fa un po' così capito no questo è il trick bellum uuuu vedo ma qui dopo 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 hai già visto la brillantezza della brillantezza della brillantezza teniamo i i holograms i the people che ci sta seguendo sulle spine perché se qua c'è una cosa bella non possiamo farla vedere subito cioè non è che tu vai a vedere il film degli avengers e Thanos che ho cantito all'inizio no esatto teniamoli sulle spine esatto attenzione and the trick and the freak goes on cioè the beat goes on and the trick goes on beh allora eh sì ha cambiato busta sto disgraziato ho cambiato busta eh certo se no dove è il bello allora qua c'è la carta rara allora così così arriva da adesso attenzione c'è beat ma che carta è questa che torzo l'elmo questo poi l'energia l'abbiamo trovata finalmente e beat beat lui quindi niente amazing niente amazing niente amazing però 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 io rimango in fissa su Zammazenta sono rimaste la bustina inaina e la bustina si ma la testa se ne vedete qualcosa da in quella busta c'è del brillante c'è della bellissima c'è la fiamma forse è una reverse solo che brilla di più ma c'è qualcosa che sbrilla se ne vedete la sfida certo fai vedere quel codice che tanto ormai li dà assidiamo un codice regaliamo un bel codice su via uno su Instagram e poi uno sul tubo uno è il tubo e quello qua quello qua quello qua allora andiamo piegare il codice perché tutti i codici che diamo vengono piegati adesso arrivo subito attenzione dove finisce questo questi sono tutti i codici che abbiamo regalato da maggio ad oggi e poi faremo un bel contest indovina quanti sono più avanti però più avanti attenzione trick il trick è così è opposto bene chi sa riolu bene bene ferro da stiro dusk nuut di gare cosa si fa lì? ecco non mi passava è l'energia 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 buio dopo la reversione come ho fatto non si sa ma me è chiaro non è la rara? me è cargo me è cargo no 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 è un common è un common ok ho visto male attenzione la rara sta per arrivare se non è già passata è lei è Vaporeon è Vaporeon Dribble Vaporeon eccolo qua eccolo qua ma adesso adesso c'è un coloro no aspetta il codice lo diamo qua sul tubo pronti là poi su lpv television vi cucate il video e più veloce si cucca il codice ma attenzione che brillantezza che brillantezza allora ma guarda che bello sei già visto è infatti è arrivato alle 11 collector quindi alle 11 preparati che qua preparati Zuello attenzione sappiamo già che c'è della brillantezza che abbiamo visto mi sento di bianca una brillantezza molto white quanto fare molto bello detenne questa artwork molto abbiamo tenuto il meglio alla fine energia lavaggio attenzione energia lavaggio che va gettoni c'ermilio io pensavo che era qua invece no c'ho l'ansia ma siamo sul finale attenzione sembra tipo sì e sai cosa sta protezione medaglia dell'eroe ultra rara bomba che bomba che bomba che bomba ma che rita abbiamo aperto ma che rita abbiamo aperto che figata toga kiss v medaglia dell'eroe ultra rare zama zenta amazing and edgy slash v max che bomba che bomba che bomba che bello stasera abbiamo proprio spettacolo figata pazzesca bella 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 veramente bella finalmente ci vogliamo molto molto bene molto molto bene anche poche domande dal no sono tutti contenti per noi grazie grazie a tutti grazie a tutti di seguirci come sempre numerosi come sempre bosca del ciac che è quello qua perché lo metto giù poi un sacco di cose grazie grazie a tutti spero che avete passato dai momenti 10 minuti divertenti ma con noi ciò che posso io i momenti di 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 finalmente un po' di fortuna che ci dà i boss niente il pokemon era un bel po' è stato un voltaggio sfolgorante a farci tornare in pista perché le prime tre abbiamo sbustato malissimo fino a fiamma oscura abbiamo sbustato male sbustato sotto della querna sotto della querna era lui che aveva preso la fortuna della querna esatto fabio bravo fabio aspettiamo un'apertura della signorina arriverà arriverà sabato sera ecco ma perché glielo dici che puoi cominciare a rompermi le palle ma no sbustano fossile fabio e tocca farlo a prendere vabbè ma sto scherzando ti riprenderai da solo faccio a prendere molto volentieri la signorina della legge di instagram bene bene e allora ci siamo sbustati anche il set allenatore fuori classe di voltaggio sfolgorante speriamo che rientri anche la versione inglese anche se ci vorrà qualche settimana forse un po' di più ma rientrerà spero cominciamo le dita e grazie a tutti siamo su facebook su instagram su internet le mie piccolarati punto it via benvenuti in quel di arcore siamo qui a far casino dal primo dicembre 2001 manca poco siamo a 19 ma no quanto tempo che faccio il casino bene 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 grazie a tutti come sempre di seguirci da vos dalla signorina della regia di instagram della signor erica è tutto ci vediamo alla prossima ciao goodbye ciao ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie per la visione!